In Ucraina esplosioni in due regioni a ovest di Kiev, i russi annunciano di aver abbattuto tre droni nell'area di Mosca, continua l'offensiva ucraina nella regione di Zaporizhia. Quasimodo Moravia e Piero Angela tra le tracce della maturità 2023, fra i temi proposti è anche una riflessione sull'epoca di Whatsapp sui banchi, 536 mila studenti. 60 anni fa il conclave sceglieva il successore di Giovanni XXIII, fumata bianca per il cardinale Giovanni Battista Montini che prese il nome di Paolo VI, canonizzato da Francesco nel 2014. Edizione di Mezzogiorno ben ritrovati negli studi del TG2000, in primo piano la guerra in Ucraina, esplosioni nella notte in due regioni a ovest di Kiev, mentre le autorità russe fanno sapere di aver abbattuto tre droni nell'area di Mosca. Oggi a Londra la conferenza sulla ricostruzione. Antonio Soviero. Le forze ucraine stanno rafforzando le posizioni conquistate con la controoffensiva sulla linea meridionale del fronte. Parziali successi si registrano nella regione di Zaporizia, contrattanchi in atto anche in quelle di Lugansk e Donetsk a est. Secondo Kiev, sono otto i villaggi riconquistati in due settimane nel sud occupato dai russi, i quali contrattaccano con maggiore insistenza. Nella notte le forze del Cremlino hanno attaccato nuovamente con sei droni kamikaze di fabbricazione iraniana, che sarebbero stati tutti abbattuti dalle forze di difesa aerea del paese, lo rende noto l'aeronautica militare di Kiev. D'accanto suo Mosca sostiene di aver distrutto tre droni arrivati nell'area della capitale, erano diretti verso magazzini di materiale militare. Secondo l'intelligence britannica, la Russia sta allestendo fortificazioni vicino a Perekop, nel nord della Crimea, preparandosi a eventuali attacchi da parte dell'esercito ucraino. Iniziata a Londra, la conferenza dei donatori internazionali per la ricostruzione dell'Ucraina. 60 i paesi partecipanti. In apertura il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev di 240 milioni di sterline, quasi 280 milioni di euro. E la guerra in Ucraina è al centro dei colloqui di oggi a Roma del presidente brasiliano Lula con Papa Francesco, Mattarella e Meloni, quest'ultima rientrata in Italia dopo il faccia a faccia in Francia con Macron. Augusto Cantelli. Ucraina e Russia cerchino la pace. Con questo messaggio giunge a Roma il presidente brasiliano Lula. Nel fitto programma l'incontro con il Papa e poi quelli con Mattarella, Meloni ed Elie Schlein. Il tema del conflitto sarà centrale in tutti i colloqui. Lula si propone come possibile mediatore per un accordo di pace. Ne parlerà anche con il presidente francisco Macron nella tappa parigina. All'Eliseo, ieri, nel primo faccia a faccia istituzionale, la premier Meloni e il presidente francese hanno ribadito il sostegno a Kiev. Punti di convergenza tra Italia e Francia dopo le tensioni passate, anche sulle politiche migratorie e sulla revisione del patto di stabilità. La crescita economica resta l'obiettivo comune di imprese, lavoro, ma anche di fisco. Meloni torna a parlare nell'assemblea del Lance, l'associazione dei costruttori ed Elie. A partire dalla delega fiscale con la quale vogliamo costruire un fisco alleato di chi fa imprese e produce ricchezza, non un fisco nemico, quasi vessatore. Questa è la nostra visione. Delega fiscale che prosegue l'iter parlamentare, in commissione iniziano le votazioni sugli emendamenti. Da Quasimodo a Piero Angela, ma anche l'attesa nell'era WhatsApp, sono alcuni dei temi delle tracce della maturità tornata alla normalità dopo l'emergenza sanitaria. Ci colleghiamo allora in diretta con Beatrice Bossi, che si trova per noi in un liceo romano. A te Beatrice. Buongiorno, 500 mila poco più gli studenti che oggi sono tornati sui banchi per l'esame di maturità. Esame tornato al modello pre-pandemia. Che cosa significa? Significa due prove scritte e il colloquio orale. Niente terza prova, dunque abolita nel 2017. Si è cominciato oggi con il tema di italiano, domani la prova disciplinare di indirizzo e dal 26 giugno invece cominceranno gli orali. Il 15 luglio sarà tutto finito per i ragazzi. Il toto traccia è già cominciato da qualche settimana per la prova di oggi. I ragazzi speravano in svevo e d'annunzio, ma sono stati delusi. Vediamo quali sono con Marino Galdiero le tracce che ha inviato il Ministero questa mattina. In principio Dio creò il cielo. Questo l'incipit della poesia di Quasimodo scelta dal Ministero dell'Istruzione come traccia della prima prova scritta per i maturandi intitolata Alla nuova luna affronta la questione dell'intelligenza umana che sfida la creazione divina. L'altra, sempre dedicata all'analisi del testo, è un brano tratto dagli indifferenti di Alberto Moravia. Romanzo in cui si affrontano le ipocrisie del mondo borghese. La seconda tipologia proposta è il testo argomentativo per il quale le tracce sono un estratto da Dieci cose coimparato di Piero Angela, dedicato allo sviluppo tecnologico e informatico, l'idea di nazione dello storico Federico Chabot e intervista con la storia di Oriana Fallaci. C'è inoltre la possibilità di scegliere il tema di attualità. In questo caso lo studente ha a disposizione due tracce. L'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp, tratto da un articolo di Marco Belpoliti, è la lettera aperta, inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'istruzione Bianchi, che invita a reintrodurre l'esame di maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia. Queste dunque le tracce, siamo a metà della prima prova, le prime tre ore sono trascorse, ne mancano altre tre. Vi lasciamo allora con le voci che abbiamo raccolto prima dell'ingresso in aula dei ragazzi, voci direi abbastanza allegre e spensierate, che hanno colto nel segno il messaggio inviato agli studenti dal ministro Valditara, che ha detto loro di non preoccuparsi eccessivamente. Sentiamo le linee allo studio. Oggi data, l'ho passata a casa, non sono andata al Gianicolo come gli altri, alle 11 dormivo, quindi dai, è abbastanza tranquilla. Cosa mi sono preparata? In realtà oggi che è la prova di italiano un po' al caso, dai, vediamo, ci affidiamo al caso. Matematica mi sono preparata abbastanza bene. Sono andata al Gianicolo e boh, intelligenza artificiale, speriamo, dicono un po' tutti così. Mi sono preparato vedendo temi di attualità, insomma, quelli di cui abbiamo più sentito parlare in quest'ultimo periodo e devo dire ho usato anche intelligenze artificiali per, insomma, fare prove di temi per vedere se magari mi potrebbero aiutare anche durante questa prova. Mi sono preparato su un niente praticamente, quindi la faccio, come va va. Oggi per l'Italia non siamo tranquilli, il problema è domani matematica, perché poi matematica devi aver studiato. Oggi bene o male, anche senza studiare, uno se la cava. Sempre è stato tranquillo per questi esami, tanto se uno ha studiato, lo ha studiato nel corso di questo anno. A che voto punti tu? 60. Ad uscire! Spostiamoci nella provincia di Monza e Brianza, Seregno, dove ci sono indagini in corso dopo il ferimento dell'allenatore della squadra di calcio Under 9 è avvenuto la scorsa domenica. Il mister di 44 anni è stato colpito con un calcio mentre cercava di sedare una discussione scoppiata tra alcuni genitori dei piccoli, piccolissimi giocatori impegnati in una partita all'oratorio Sant'Ambrogio. L'uomo in ospedale ha subito l'asportazione del Rene. Ancora un naufragio a largo di Lampedusa, un barchino è affondato nella notte in area SAR. 44 le persone tratte in salvo, ma secondo i superstiti ci sarebbero dispersi. Nicola Ferrante. Il mare torna a inghiottire vite umane. Nuova tragedia a largo di Lampedusa con un barchino di 6 metri affondato durante la notte. La guardia costiera è riuscita a trarre in salvo 44 migranti, fra cui 6 donne, ma secondo le testimonianze dei superstiti, all'appello mancherebbero alcuni compagni di viaggio, forse tre. I naufraghi sbarcati al molo Favarolo quando era ancora buio hanno riferito di essere originari di Burkina Faso, Sudan e Algeria, salpati dalla Tunisia alle 21 di lunedì. Proprio ieri sera, al termine della giornata dedicata ai rifugiati, era stata illuminata di blu la porta d'Europa in segno di solidarietà con chi è costretto a fuggire da guerra e miseria. Vogliamo chiedere appello all'Italia, all'Europa, a tutti, l'autorità anche internazionale di dare risposte perché non si può più a vedere gente che continua a morire e vedere come è successo due giorni fa a Grecia. 3.000 dinari libici è costata la traversata quasi 600 euro per andare a trovare una tomba in fondo al Mediterraneo. Le tensioni in Medio Oriente dopo l'attentato in cui sono rimasti uccisi quattro israeliani in Cisgiordania ma per le ultime ci colleghiamo con la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Alessandra, a te. Buongiorno, sì, a lutto per le vittime israeliane. Uccise ieri in una stazione di servizio vicino all'insediamento di Eri nei territori palestinesi intorno a Nablus. Si è aggiunta questa notte la vendetta da parte di un gruppo di coloni israeliani che hanno attaccato diversi villaggi palestinesi della zona. Hanno bruciato 150 auto e hanno mandato all'ospedale 35 residenti. Non è la prima volta che i coloni si fanno giustizia da solo. Un segnale di quanto la situazione si stia davvero facendo è incandescente. Ieri il ministro Benvir, un ministro dell'estrema destra all'interno del governo, è andato sul luogo dell'attentato dove due attentatori sono stati uccisi e ha chiesto al premio a Netanyahu un'operazione militare di vasta scala a Nablus come a Genin, che è un'altra delle roccaforti dei miliziani armati palestinesi, due giorni fa si è trasformata in un campo di battaglia e questa mattina alle sei vittime di due giorni fa si è aggiunta anche la morte di una quindicenne in ospedale che era stata ferita negli scontri. L'attacco all'insediamento di Eli sarebbe stata una vendetta per queste vittime da parte, due miliziani di Hamas. Hamas che da Gaza definisce l'operazione un'operazione eroica e anche Netanyahu promette una risposta, si è riunito con i suoi vertici militari e vedremo nelle prossime settimane di quale entità è da Gerusalemme e la linea può tornare a Roma. Grazie, grazie ad Alessandra Buzzetti. Cambiamo argomento, dopo settimane di temperature più basse rispetto alla media del periodo e nel giorno in cui inizia l'estate arriva la prima ondata di calore. Antonella Mazza Teruel. Il meteo variabile e le piagge intense dei mesi scorsi hanno ceduto recentemente il posto a caldo e a fa senza lasciare il tempo di abituarsi al cambio di stagione. Oggi, inizio dell'estate, sul bel paese si è affacciato per l'anticiclone africano un sole coccente in progressiva espansione e il Ministero della Salute traccia l'allerta 2 su una scala di 3 nel bollettino di calore le città di Bolzano, Campobasso e Perugia. Ma sarà domani il giorno in cui sono attese in gran parte dell'Italia temperature fino a 10 gradi sopra la media stagionale e i bollini arancione scatteranno per 13 città dal nord-est, Brescia a Verona fino al centro, Ancona, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara e Rieti. Unica tra le grandi città volta dal caldo rovente sarà Roma. Ma la prima ondata di calore da non sottovalutare per anziani, bimbi piccoli e malati cronici si esaurirà presto e già dal prossimo weekend sono in arrivo 20 freschi dal nord Europa lungo l'Adriatico con possibili temporali sparsi. Era un 21 giugno come oggi ma di 60 anni fa quando veniva eletto Papa Paolo VI, il pontefice che ha portato a compimento il Concilio Vaticano II. Rita Salerno. Il primo pontefice ad inaugurare viaggi internazionali, Papa Montini che scelse il nome dell'Apostolo delle Genti. Eletto dopo soli due giorni di conclave, Paolo VI portò a termine tra mille difficoltà e contrasti il Concilio Vaticano II che chiamò il Catechismo del nostro tempo, dimostrando una grande capacità di mediazione. Giovanni Battista Montini, bresciano di Concesio, traghettò la Chiesa verso il rinnovamento. Nella fedeltà alla tradizione e al Vangelo portano la sua firma le encicliche Ecclesiam Suam del 64, Populorum Progressio del 67, l'Umane Vitae sul Matrimonio e la Regolazione delle Nascite del 68, al centro di Aspre Contestazioni. Senza dimenticare l'esortazione apostolica Evangeli Nunziandi sull'evangelizzazione nel rispetto delle culture. Il primo e più significativo dei suoi viaggi apostolici fu il pellegrinaggio in Terra Santa, nel gennaio del 64, nel corso del quale incontrò il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Atenagora I. In occasione del sessantesimo anniversario della sua elezione, la diocesi di Brescia ha promosso in nomine domini, un pellegrinaggio della reliquia solitamente custodita nella Basilica Santuario di Santa Maria delle Grazie. È rapito di Marco Bellocchio il miglior film ai nastri d'argento 2023. Tutti premiati nel servizio di Fabio Falzone. Con ben sette statuette rapito di Marco Bellocchio, sbanca tutto ai nastri d'argento, confermando il talento del regista dopo la vittoria ai nastri per le serie, con esterno a notte. Tra i premi di rilievo, quello per il miglior film, la regia e l'attrice protagonista, Barbara Ronchi, nel ruolo iconico della madre del piccolo Edgardo Mortara. Il figlio è ebreo! Anche la dialettica, il dibattito, è stato bello, perché non c'era ostilità, capito? Non c'era ostilità ideologica o in nome di un principio, no, 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 no. È la forza del cinema, va bene, adesso un po' di vacanza, Bellocchio è infaticabile. Sì, speriamo. Ancora il cinema, tra l'altro in mezzo a tutti questi blockbuster, però rapito, resiste. Migliori attori Luca Marinelli e Alessandro Borghi per un film amatissimo dal pubblico, Le otto montagne. Il film per noi è stato un grande viaggio, che è stato nutrito dalla nostra amicizia e condito in maniera meravigliosa dalla storia del film e da questi due registi straordinari che abbiamo avuto la fortuna di incontrare. Ma la più emozionata e sempre irresistibile è lei, Giovanna Ralli, nastro speciale alla carriera. Lei è sempre bellissima, è piena di entusiasmo e di grande forza di volontà che passa al pubblico. Qual è il suo segreto, signora Ralli? Amo la vita. Amo la vita, che bisogna assolutamente anche superare i momenti difficili e non bisogna buttarci giù, assolutamente. Andiamo avanti. Ci fermiamo qui, vi lascio al meteo. L'informazione del Tg2000 torna alle 14.55. Buona giornata.